Oggi si mangia saburi d'assai Scusate per come mi trovate, ma sto un po' in disabilia che dentro alla casa, sto imbastando due gnocchi. Qui, se vi ho organizzato a venire, io vi preparo qualche cosarella di buono pure a voi e poi vi do la ricetta. Poi ci facciamo un bel giro per casa mia e dalla mia terrazza vi faccio vedere lo spettacolo del panorama più bello di Napoli e dintorni. E se vi fa piacere vi do pure i numeri del notto. Caccio i capelli! Grazie a tutti!